Allora, io a fine anno dovrei sostenere l'esame di laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari e comunque già prima dell'inizio del corso di laurea triennale avevo già preimpostato il mio corso di studi proiettato per un eventuale magistrale e successivamente un eventuale dottorato. Comunque, visto che l'esame di laurea è imminente, sono venuto a informarmi sui vari corsi di laurea magistrale disponibili da parte dell'università, possibilità di studio, lavoro, stage all'estero. E offre qualcosa all'università? Qual è l'offerta? Sì, offre dei corsi che sembrano molto validi, tre, è uno che è quello che penso che sarà il mio futuro percorso di studi che è il proseguimento naturale del mio corso di laurea triennale, quindi sempre in scienze e tecnologie alimentari dopo c'è la possibilità di spostarsi dal punto di vista agraria, quindi continuare con la laurea magistrale in agraria oppure una laurea magistrale più dal punto di vista economico, economical food che però è presente solo nella sede di Cremona e non in quella di Piacenza. Grazie.